Un insegnante di lettere è stato ingiustamente accusato di pedofilia da alcuni suoi alunni e preso di mira dall'intera comunità cittadina. L'amara storia è accaduta a Sarno, in provincia di Salerno. Stando a quanto ricostruito dalla magistratura inquirente, il 7 maggio scorso fu usato il profilo Facebook e la password dell'insegnante per rivolgere degli avanzi sessuali sulla bacheca del social network ad un'alunna tredicenne che frequenta la sua classe. In realtà dietro a quelle avanzi si nascondono tre alunni che avevano rubato la password al loro docente durante una lezione. Nel frattempo il padre della ragazzina denuncia il professore ai carabinieri, accusato di aver molestato l'alunna su Facebook promettendole la promozione in cambio di prestazioni sessuali. Per il professore inizia l'incubo. Viene sottoposto a indagini dai militari della compagnia di Sarno. La sua abitazione è sottoposta a perquisizione. Il suo PC, sequestrato. La vicenda ovviamente si ripercuote sulla comunità cittadina di Sarno dove il docente vive con la moglie e le sue due figlie. Comunità divisa tra chi condanna il docente e chi invece crede ancora nella sua integrità. L'accusa si rivela poi falsa e priva di ogni fondamento, in quanto il PM Maria Elda Montefusco ha chiesto al GIP l'archiviazione del caso. Il consulente informatico, nominato dal magistrato inquirente, ha dimostrato che il PC del professore non era collegato nel momento in cui fu inviato il messaggio incriminante e che si trattava di un appareccio della scuola. I carabinieri sono così risaliti ai tre alunni, tutti minorenni, i quali, messi alle strette, hanno confessato di aver inviato loro quel messaggio solo per fare uno scherzo alla compagna di classe.